And all we have is here in London! Indra, nuovo brand per Queen Car in compagnia naturalmente di Fabrizio Massimiliano. Ciao Fabrizio, ben ritrovato! Ciao a tutti, ben ritrovati! Puntata straordinaria perché da Queen Car sono incominciati i saldi con sconti fino al 40%, vetture nuove aziendali con sconti fino al 40% su tutta la gamma. Siong, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Dacia, Nissan, ma soprattutto voglio ricordare una novità. Queen Car diventa anche concessionaria, ma Indra, Pertorino e provincia con sconti e vetture a prezzi eccezionali. Anche lì si parla con sconti fino al 30%. Sicuramente è un anno strepitoso, iniziato sotto il segno delle grandi novità, sotto il segno del risparmio. Un parco auto che si arricchisce non solo di scelta ma anche di qualità e di convenienza, convenienza che raddoppia per voi anche per quanto riguarda i pagamenti. Ciao Massimiliano, ben ritrovato! Ciao a tutti, ben ritrovati e buon anno! La Queen Car vuole iniziare per farvi risparmiare. Come? Con possibilità di finanziamento con 80 euro al mese, addirittura dopo tre anni cambi l'autovettura con una macchina nuova. Vi diamo sette anni di garanzia, sette anni incendi e furto e solo su questo mese possiamo avere il chilometro zero con le gomme da neve incluse. Bene amici, che dire, passiamo ai fatti con gli esempi firmati Queen Car, state con noi! Siong Tivoli 1.6 benzina, tutte a chilometro zero, attenzione a un prezzaccio 14.900 euro, guardate quanti colori in pronta consegna, abbiamo anche l'allestimento 1.6 turbodiesel, 115 cavalli, 1.6 benzina e GPL, esenzione bollo, guardate tutte in pronta consegna con sconti che vanno oltre 5.000 euro, attenzione al prezzo 16.900 euro, zero anticipo, sette anni di furto e incendio, cinque anni di garanzia, Queen Car ve ne regala altri due, quindi la Siong Tivoli con sette anni di garanzia. Vettura full option al tetto bicolore, cerchi da 18, navigatore a chilometro zero, 18.900 euro, bianca col tetto nero, nero col tetto bianco, tutte a chilometro zero. Ultimo pezzo disponibile, la Tivoli B8, pelle rossa, navigatore, cerchi in lega, vettura da 26.000 euro, solo io da Queen Car 20.900 euro. Abbiamo tutta la gamma Siong XLV in pronta consegna a chilometro zero, allestimento GO, B-Visual Limited, tutte a partire da 16.900 euro. Da Queen Car trovate le autovetture che non pagate il bollo, parliamo del Corando 2000, benzina GPL, esenzione bollo, cerchi da 18, retrocamera, full option, attenzione al prezzo, 19.900 euro. Siong Rexon 2002, turbodiesel, sette posti, attenzione al prezzo, 24.900 euro, parliamo di oltre 7.000 euro di sconto incondizionato. Al prezzo di un usato da Queen Car trovate la nuova Mitsubishi Space Star a chilometro zero, 7.990 euro, sette anni di furto e incendio, cinque anni di garanzia, più la Queen Car ve ne dà sette anni di garanzia con l'operazione Queen Car, a rate da 89 euro al mese. Mitsubishi 1.6, turbodiesel, 115 cavalli, invite, full option, ultimo pezzo, 6.000 euro di super rottamazione, può essere vostro, a partire da 18.900 euro. Da Queen Car è arrivato già il nuovo modello Mitsubishi SX 2017, già a chilometro zero, il benzina, attenzione al prezzo, a partire da 15.900 euro. Abbiamo anche la versione diesel e GPL, a un prezzaccio, 17.900 euro. E poi parliamo di questo, questa è una versione invite, full option, oltre i 25.000 euro di listino, a chilometro zero, a partire da 19.900 euro. Mitsubishi SX in style, full option, al tetto panoramico, cerchi da 18, attenzione al prezzo, 23.900 euro. Da Queen Car trovate tutti i Mitsubishi L200 in pronta consegna, cosa vuol dire? In tre giorni vi consegniamo l'autovettura, a partire a chilometro zero, 18.900 euro, il Club Cab, doppia cabina, 20.900 euro, più IVA. Ricordiamo che per tutto il 2017 è stato rinnovato il super ammortamento. Parliamo di Mahindra, il nuovo XUV500, sette posti, 2.200 turbodiesel, full optional, attenzione al prezzo, a partire da 17.900 euro. Abbiamo anche la versione con pelle, navigatore, sette posti, attenzione a un prezzaccio, 20.900 euro. Parliamo di tutta la gamma veicoli commerciali Mahindra, parliamo del genio, single cab, 4x2, 4x4, con un cassone di 2,40 metri. Attenzione al prezzo, 11.900 euro più IVA, possibilità di ribaltabile trilateralmente a soli 15.500 euro più IVA. Venitelo a scoprire. Passiamo in casa Kia, sette anni garanzia, sette anni assicurazione, furticendio, gomme da neve su ultimi pezzi a chilometro zero, Rio 1.2 benzina a partire da 9.900 euro, totalmente finanziata. Super risparmio chilometro zero sulla Kia Venga, 1.4 benzina, attenzione al prezzo, 11.900 euro in pronta consegna. Passiamo alla Kia Carens, 1.7 turbodiesel, attenzione, 7 posti, alla Quincala troviamo a chilometro zero a 18.900 euro. Passiamo alla Kia Sportage, sempre sette anni di garanzia, attenzione al prezzo, a chilometro zero la Quincala portate via a 18.900 euro. Passiamo in casa Hyundai, anche qua super offerte, chilometro zero, un esempio Hyundai i10, full option, versione login, go, attenzione al prezzo, 8.900, totalmente finanziata, qua rate a partire da 80 euro al mese, sempre con assicurazione 7 anni, sempre gomme da neve. Passiamo sempre al chilometro zero sulla Hyundai i20, 1.2 benzina, 5 porte, a 11.900 euro solo da Quincala. Piccolo monovolume, la Hyundai i20, 1.4 benzina, 11.900 euro, totalmente finanziata. Super offerte a questo mese sul Tucson, 1.6 benzina, 1.7 turbodiesel, risparmio fino a 4.000 euro, la portiamo via a 18.900 euro. Tantissimo risparmio, sempre col chilometro zero, fino a 7.000 euro anche in casa Opel, Opel Meriva, versione full option, attenzione al prezzo, 13.900 euro. Passiamo in casa Toyota, Yaris a chilometro zero, 5.000 euro di risparmio a 10.900 euro, totalmente finanziata. Alla Quincala non possono mancare i 4x4, come con la Suzuki, Jimmy, 1.3, 4x4, a 13.900 euro a chilometro zero. Super offerte all'ultimo pezzo, chilometro zero, Juke, 1.5 turbodiesel, attenzione al prezzo, versione a 100, a 16.900, totalmente finanziata, 7 anni di assicurazione, furti, incendio e gomme da neve. Tutta la gamma Renault, chilometro zero, un esempio Clio, 1.2 benzina, chilometro zero, 9.900 euro. Tantissimi chilometri zero, alcuni esempi, Captur, 1.5 turbodiesel, chilometro zero a 16.900, Cajar, 1.5 turbodiesel, da 18.900 euro. Il regno delle quattro ruote, la casa del risparmio, proprio qui, amici, in via Susa 52, a pianezza da Queen Car, un parco auto che si arricchisce di un nuovo brand, brand Maindra, oltre a St. Young e altri otto brand automobilistici trattati, il nuovo l'usato, le chilometri zero, le aziendali con sconti fino al 40%, sconti super rotta mazione, chi ne ha più ne metta. mettete Queen Car alla prova con preventivi alla mano. Sì, vi aspettiamo, perché per solo questo mese abbiamo le vetture aziendali, chilometri zero, con sconti fino al 40%. Avete una vettura che vale zero, da Queen Car viene valutata fino a 10.000 euro di super rotta mazione. In più, Queen Car non vi fa risparmiare sulla vendita, ma anche sull'assistenza. Solo per questo mese tutte le riparazioni italiani vengono scontate del 22%. In poche parole, la Queen Car vi paga l'IVA. L'invito è quello di venire ad ammirare, a provare, soprattutto ad acquistare, con le ottime opportunità riservate a voi, clienti di auto occasioni, con i pagamenti e i finanziamenti direttamente suggeriti da Queen Car. Sì, certamente, vi ricordiamo, per questo mese il vostro finanziamento, diamo zero anticipo, paghiamo 80 euro al mese, possiamo ritirare l'autovettura in pronta consegna sia GPL che benzina e acquistarne una nuova dopo tre anni. Possibilità sempre alla Queen Car, sette anni di garanzia per questo mese, sette anni di assicurazione e gomme da neve incluse. Amici, che dire, la casa del risparmio è proprio qui, come vi dicevi, mi è Sousa 52 a Pianezza. L'invito è quello di venire ad ammirare, a scegliere, a provare l'auto dei vostri sogni e soprattutto ad acquistarla con le ottime condizioni di pagamento firmate Queen Car. Un ringraziamento a Fabrizio Messimiliano, a voi che ci seguite sempre con attenzione, come sempre lì nella regia.